Austin viene dalla Nigeria, Isaac dal Senegal. Fanno parte delle due squadre di migranti che da stamattina contribuiscono a pulire strade e marcia a piedi di Firenze. Volontari, come i tanti che in prima persona hanno cercato di rimediare ai danni del tornado. Hanno scelto di essere qui oggi, ci raccontano, perché le immagini di sabato li hanno rattristati. Vogliamo essere d'aiuto, ci dice Austin. No, non siamo venuti per restare le mie coraggiate o per tutto il senso. Siamo qui anche per mostrare che non vogliamo solo essere sostenuti dagli italiani, ma essere al loro fianco per aiutarli fino in fondo, racconta, orgoglioso del suo impegno, Isaac. I ragazzi che lavorano sono tutti assicurati, opzione possibile grazie a una convenzione che la regione ha stipulato con Inail per i lavori di pubblica utilità.